Sa, si deve assicurare. Sarebbe, sarebbe ciò che dissi. Si spieghi, anzi, si dispieghi. Sono qui ad illustrare un affare particolare. Tratterebbe si, si tratta, trattasi dell'assicurazione sull'assicurazione. Sono sulle spine, mi sveli, anzi, mi ti sveli. Supponiamo che la sua assicurazione non l'assicuri. Supponiamo. Supponiamo che lei stipuli la seconda assicurazione sull'assicurazione. Supponiamo. La seconda assicurazione subentra subitamente solo se l'assicurazione non l'assicura. Ma se l'assicurazione non mi assicura, io straccio l'assicurazione e stipulo un'assicurazione che non sia seconda a nessuno. Sì, sagaccia scelta, ma sta qui la scadrezza. La seconda assicurazione non è seconda a nessuno e subentra subitamente solo se l'assicurazione non l'assicura. Straordinario. Stupefacente. Sono sbalordito. Le spiefero un segreto. Stiamo studiando una terza assicurazione, nel caso anche la seconda assicurazione non l'assicuri. Ssss, stia zitto. Sillabi in silenzio se riesce. Sono sconvolto. Ci sono spie in questa stanza. No, è solo troppo svelto e io non riesco a scrivere. Scrivere che cosa se non sono indiscreto? Sono assicuratore anch'io e pensavo di illustrare un affare particolare. Tratterebbe sì. Si tratta... Trattasi dell'assicurazione sull'assicurazione. Sono sulle spine. Mi sveli, anzi, mi disveli.